vai, dai ciò per i 1 console con la roma vabbè, allora rega, iniziamo, iniziamo rega mancano 14 minuti facciamo 4 minuti per contare e 10 minuti per cercare eh vai, vai rega, andiamo va raga, io è il mio mio ma che cosa? no! ok, vai, vai rega va raga, va raga ah, è vero rega, sentetemi segnali eh, non mi vedete segnali non mi vedete segnali, non mi vedete è vero rega avviare che cosa? la partita no, no, aspetta, aspetta, terminiamo rega non la partita secondo rega, devo mettere l'impostazione che non si devo mettere ah, perché poi potrei cambiare le mie decisioni? no rega, non voglio più contare io no dai, conta un po' conta rega ma perché? a me fa schifo per contare aspetta, dai un po' a vostra che ci andrà bravo bravo ah ecco, vedi? si sa quanto ci ho messo in futuro eh, eh ma comunque credo che sia stata lega una cosa del genere ma che cosa? c'è tipo, rega, ci stanno le scale non so se avete mai visto, ci sono le scale e tipo, al centro ci sta l'orologio cioè rega, ha fatto troppo bene troppo effettissimo io e i miei amici abbiamo fatto una volta un mensai di una città è venuta abbastanza bene cioè, dobbiamo ancora tranquillo ma sono troppo tranquillo ma quanto su me per ricaricare? ehm, casino quello che è ecco ah, un oraccio ma... la mia possazione ma la mia possazione è finita, ragazzo la mia possazione è finita, ragazzo ma non vinci ma io ci sto No, non ci c'è Lo stai sbocato Ok, regà, vai Vincenzo, non c'è un potere calibro da giù Ma l'altro tu vedo il mio che c'è bacato Ma l'altro mila, mila, mila Cosa non ho capito, scusami Io vedo che cerca di sono morto Eh no, io vedo Tutto nero Ma io vedo tutti No, non ci sto voto Veramente avete sbagliato Tecnologia Tecnologia? Ma ha messo il voto? No Che ne sono? Ecco Ma mi finisce la cosa a sentire Raga, ma a me non si muove A me non si muove Eh ma è un po' io per il generale No, ma io non posso dire che meglio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Davide ma quanti siamo? Manca uno raga, chi è che c'era? Travide, dove sei? Vi ci siamo, andiamo. Ah no, facciamo sei. Vai raga, ci siamo, andiamo a ripugnare a noi. Chi è che ti risposta? Io. Andiamo a rascondirlo. Inizia con quattro anni. Nascondiamoci qui. Vai raga. Davide andiamo, Davide, sopra. No Davide dobbiamo andare sopra. No, facciamo l'altro. No, vi ci cerco. Segui la vicina. No, non è questo. No, non è questo. No, non è questo, ci cerco. Dai, dai. No, no. Anzi, si apriamo l'altro. Vieni solo solo sui qua? Eh sì, perché insieme non so se ho una buona idea. Mi vedi qui, 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 qui. Guarda, se mi metto a fare... No, 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 no. No, no, è 10. Eh no, questo è 9. No, è 10. No, è 10. Non so se non si è possibile. Eh... Vabbè, dai, 10, 10, 10. No, dai, no. No, 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 no. No, 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 no. Dai, no, 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 no. Dai, no, 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 no. Dai, no, 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 no. Dai, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ci sono le scialupi. Davide, sopra, andiamo. piccolino no, hai dieci Miles vieni, 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 vieni qua il camionino è 61 è 61,1, è 62 la censurie ma gli ci sei chiudess ma gli interventi ma gli interventi la rene se devo contare ma ci possiamo ci possiamo muovere no no vi potete muovere dallo scondiglio io sto ancora cercando io sto ancora cercando ma se non è troppo facile ai 10 dovete stare fermi davide dove sei? dove sei? e 10 dovete stare fermi non vi potete muovere mi ci pare tu sei tutto scicoso ma non mi ci vuole altra parte mi ci vuole altra parte mi ci vuole altra parte cioè non potete muovermi dovete stare fermi mi proprio fermi si giordano io e regali tanto metto vinceremo? vinceremo morti aspetta vinceremo che non mi puoi morire no no regali non potevo morire vinceremo un'altra parte no no non mangio mai a questa mamma ma no è bello davide sto sempre qua davide ma tu sei sempre la si si guardami davvero 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 Viti di te no 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 mi sono bacato Davide non mi se muove più Davide guarda ma non mi va non posso venire mi sono bloccato mi sono bloccato mi sono bloccato davide chiudimi la posta davide chiudimi la posta dai dai mi sono bloccato raga ma davvero nessuno vinci no no dovevi vinci mamma mia molto bene mi scappa 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 sicuro questa è piccola non raga però non pare che vi siete messi nelle stanze sono impossibile controllarmi le stanze come no no vado a controllare tutte le stanze ora non posso muovermi io non posso muovermi io non posso muovermi raga 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 siamo rimasti in quattro il renegade si chiama le bidon ora c'è che conta il che è benissimo le porte a aprire grazie 2 No raga, io vincio nella mensa e io non mi ha messo tutte le scatole Ma chi è? Ma chi è? Un secondo raga 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 Un secondo raga